Now I Ho capito chi è stato Iniziati o no? Ma che rottura di ogloni però è morto stava sul culo a tutta finita sempre discreto ragazzi indietro io non ci si non vi fate strani film in testa voi che mantenete un segreto ma non fatemi dire vai ciao ciao